Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In un'atmosfera carica di suspense e mistero, emergono dettagli cruciali nel caso che ha scosso Rosazza la notte di Capodanno. Il deputato Emanuele Pozzolo si trova ora in una situazione sempre più complicata dopo che un esame, noto come Stubb, ha rivelato tracce di polvere da sparo sulle sue mani e sui suoi vestiti. Questa scoperta, arrivata dal RIS di Parma, rappresenta una svolta significativa nell'indagine, accentuando i sospetti su di lui. Mentre si attende con ansia il risultato della perizia balistica, un altro tassello fondamentale del puzzle, la narrazione degli eventi resta incerta. Tutti i testimoni affermano che la pistola fosse in mano a Pozzolo prima dello sparo, ma lui nega di aver personalmente esploso il colpo. Davanti ai giudici, ha scelto di rimanere in silenzio, nonostante abbia tentato di diffondere diverse ricostruzioni attraverso i media nelle settimane precedenti. La situazione si complica ulteriormente con le dichiarazioni di Pozzolo, che sostiene di aver visto cadere la sua pistola e di averla vista raccogliere dal caposcorta del sottosegretario del Mastro, Pablito Morello. Quest'ultimo, che è genero della vittima dello sparo, Luca Campana, ferito a una gamba, non è stato ancora indagato ed è considerato un supertestimone. Con l'esito dello stab che conferma la presenza di polvere da sparo su Pozzolo quella sera, l'attenzione si concentra ora sulla perizia balistica. Se questa dovesse avvalorare il racconto di Morello, la posizione del deputato si aggraverebbe notevolmente, lasciando aperte molte domande su ciò che è realmente accaduto quella fatidica notte di Capodanno. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.